E' una giornata cruciale per i destini del Messina ed in particolare della guida tecnica del club giallorosso. Dopo settimane di slanci in avanti e strategiche ritirate, oggi il Messina dovrebbe uscire dall'impasse e sapere con certezza quale sarà il suo futuro e soprattutto se in questo futuro c'è posto in panchina per mister Modica. In serata, l'esito del faccia a faccia di oggi pomeriggio del presidente Schott e l'allenatore Modica, il tecnico è partito in tarda martinata da Mazzara del Vallo con un carico di incognite misto alla speranza che una buona parte delle stanze avanzate nelle scorse settimane in merito alla riorganizzazione del club vengano accolte. Raggiunto l'accordo economico, il trainer ha chiesto garanzie sulla strutturazione del suo dalizio. Domani, qualunque sia la sua decisione, Modica con ogni probabilità, incontrerà la stampa per spiegare dinamiche e ragioni che lo hanno indotto ad assumere una scelta che tiene con il fiato sospeso i supporter giallorossi.